Oltre 150 alunni dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci a Roma hanno incontrato questa mattina l'atleta dell'esercito FIGH Futura Roma e della nazionale femminile Anika Niederweiser. Nell'ambito del progetto i giovani incontrano i campioni promosso dal CONI e al quale la FIGH ha aderito per il secondo anno consecutivo. L'incontro arricchisce il programma di costante promozione della palla a mano che la federazione porta avanti sul tutto il territorio nazionale ormai da tempo, coinvolgendo proprio la tirata delle squadre azzurre. Per i piccoli partecipanti, ma tenata diversa dalle classiche lezioni in aula con la possibilità di rivolgere le proprie domande alla giocatrice azzurra e di soddisfare curiosità sulla disciplina della palla a mano e sullo stile di vita degli sportivi.